Grazie, grazie! Bravo, 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 bravo! Noi qui, bravo! Bravo, 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 bravo! Ho detto questo, è uguale per i nostri 4 anni. È in casa un momento, è ora... Eh? Di chi è questa? Da partite di tutti voi! Da parte di tutti? Di tutti voi? Se è lunghissima la... Ah no no Quasi scritto Ed il mio strano istituto Augurando ti giorni meravigliosi Auguroni Dai tuoi fan zucati di testa Sono due zucati forte eh Grazie mi voglio bene lo sapete Ma la facciamo così Lasciamo così Ci auguriamo tante cose belle E poi il meglio Ci auguriamo il meglio del meglio va bene? Sì La facciamo così Grazie 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 E' un'esercizio Grazie per la visione Grazie per la visione